buonasera a tutti da me stefano di vicenzi e da manuela buonasera buonasera a tutti ti rubo un secondo la parola stefano solamente gaetano per avermi permesso di conoscerti e di ringraziare te perché sei un'anima specialissima ecco ero già emozionato prima così adesso non parlo più in questo progetto di fusione alchemica chiamiamolo così brava brava è proprio quello che 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 è alla fine perché io sono uno studente te sei molto più avanti come come studi nel tuo settore si dice può dire no perché credo che le conoscenze che anche tu che ancora non vuoi riconoscere pubblicamente te le riconosco io ok meno male meno male grazie grandi e antiche quindi lo studio lì c'entra ben poco si serve ma è solo per ricordare è perché sai cos'è quando devi parlare a qualcuno di qualcosa che nella pancia senti che funziona ci devi mettere il mentale il mio problema è quello quindi meno male che hai trovato giusto la giusta quadra perché non sapevo bene come iniziare a il discorso quindi andiamo al sodo vedo già qualche salutino ma non riesco a vedere i nomi di chi ci sta salutando quindi mando un abbraccio a tutti è un saluto grandissimo esatto ecco ho visto Gaetano adesso buonasera Gaetano buonasera a tutti gli user che sono per ora anonimi se riesco a aprire bridge su un'altra finestra magari riesco a seguire a identificare se no comunque buonasera a tutti e per andare al sodo questa sera l'orgonite che tra virgolette costruiremo insieme non solo a quattro mani cioè le mie e quelle di manuela ma tutti quelli che saranno che sono presenti online e in qualche modo contribuiranno la faremo virtualmente o per loro sulla carta nel senso che io in base alle suggestioni suggerimenti idee che arrivano dalla dalla chat disegnerò un dozzetto mentre manuela ci darà una il punto il punto di vista del punto di scusa ci darei qualche suggerimento riguardo le pietre cristalli che saranno più appropriati per andare a concretizzare l'intento che ricordiamo dal sondaggio che abbiamo lanciato questa settimana sarà fondato sul dire solo coraggio secondo me fuori viante perché lo ripeto alla nausea come avevo già fatto fino nelle scorse dirette non è una bacchetta magica ma è un vediamola più anche se è brutta come immagino una stampella cioè un supporto che ha bisogno di noi però della nostra energia attivamente quindi questo orgonite diciamo che sarà un aiutante nell'esercizio del coraggio e in base alle suggerimenti suggerimenti che ci arriveranno ci dirai tu mano se quella pietra piuttosto che un'altra è adatta perché poi ogni pietra ha una sfumatura non è solo il colore giusto che ci ci danno solo ogni pietra ha una sfumatura in realtà come ti avevo già comunicato ne ho trovate due che potrebbero andare molto molto bene perché appunto come dici tu è solo un mezzo quindi parte tutto dalla nostra volontà e quindi all'interno svelo una mezza sorpresa senza dirlo Stefano già lo sa ci sarà qualcosa che aiuterà anche la nostra volontà a collegarci alle vibrazioni universali che poi appunto questa magia che creerà Stefano ok manderà proprio questo tipo di vibrazioni in sostegno del coraggio della forza di tutto ciò che ci serve per fare questo grande salto qualsiasi esso sia esatto scusa sto cercando di seguire i commenti su bridge allora perché qua sono tutti user anonimi comunque sono tutti saluti per ora però una persona si è presentata anni da bordighiera e ti saluta ciao 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 c'è certo certo sei ancora bordighiera beata te brava suona Michela è presente perché ha dato l'autorizzazione a Steamyard e quindi bene la vediamo anche Florian Florian ciao anche a te allora io provo a innanzitutto mi avevi dato uno spunto adesso quando hai parlato del delle varietà della varietà della scelta quindi delle sfumature riguardo al ecco il coraggio abbiamo detto non sarà solo coraggio ma anche diciamo quelle quel contorno che sarà necessario per renderla veramente piena ecco se devo sentire devo dipingerla con una sensazione sarà piena completa non sarà solo il coraggio che vi fa lanciare nel fuoco che speriamo di no ma anche come dicevi la connessione per ottenere quel giusto spunto che magari in un momento in cui il coraggio deve essere esercitato è un supporto in più oppure un qualcosa da fare qualcosa da dire un atteggiamento mentale da applicare per ottenere una connessione un allineamento giusto anche una forma di consapevolezza per poter sostenere questo salto perché a volte non basta saltare bisogna capire quando è il momento esatto per poterlo sostenere questo salto esatto allora un secondo allora innanzitutto possiamo iniziare a a fare qualche domanda ai nostri i nostri spettatori i nostri amici che ci stanno seguendo perché se devo disegnare qualcosa mi serve un contorno decidiamo una forma per esempio tra quelle più comuni abbiamo la piramide ho fatto ho creato anche qualche con un cubo una sfera ma poi non ci si può non ci si deve limitare alle forme canoniche o alle forme geometriche che ci vengono in mente più perché abbiamo stagliocchi ma può essere anche una costruzione più elaborata o articolata però diciamo che forse per iniziare per non complicarci la vita e non disorientare con troppe opzioni potremmo partire da una piramide che cosa ne pensi Manu? io amo le piramidi io amo le piramidi secondo me hanno una potenza proprio molto alta e mi stai riportando in Egitto e quindi come dirti di no insomma cioè vuol dire non potevi fare scelta migliore a parer mio molto bene molto bene allora io comincio a disegnare qualcosa intanto che aspettiamo suggerimenti allora se la forma la diamo per buona la piramide l'intento centrale il focus è sul coraggio quindi il dover uscire l'attualità ce ne dà ampie possibilità di esercizio uscire dalla comfort zone per magari esercitare per tirare fuori la propria voce il nostro dissenso magari facile immaginare come in questo caso ma per esempio oltre al coraggio di per esempio ecco la voce se dovessi applicare al coraggio qualcosa che aiuti a tirare fuori la voce per esempio che pietra suggeriresti ma sicuramente un lapis lapis proprio sì sì è la pietra degli oratori è la pietra dei re delle regine è la pietra che fa lavorare le nostre vibrazioni filo con l'emozione con molta fermezza e anche se ecco per esempio se scegliessimo un lapis che è abbastanza impattante come vibrazione imponente e anche come si può dire crea una nostra vibrazione incontestabile no? quindi è una è una pietra molto forte molto ferma non metterei poi una pietra troppo radicante perché altrimenti rischiamo di fare un salto magari oltre le nostre possibilità o magari creando qualche scompenso a chi sta intorno a noi quindi dici una pietra come colore di fondo un blu per la quindi collegabile al quinto chakra giusto? esatto però non troppo forte perché che rischi di dicevi di portare intendo dire che se andiamo a lavorare sul filtro gola ok per il coraggio quindi ci spostiamo sul chakra della gola ok quindi sulla vibrazione della parola non andrei per esempio ad aggiungere un granato grezzo perché rischerei di inventare un titano che abbatte tutto ciò che c'è intorno in realtà bisogna vedere che tipo di forza di che tipo di forza noi abbiamo bisogno in questo momento perché se la falla nostra in questo momento di avanzamento è il fatto che io non riesco a dire la mia verità andrò a usare un lapis ma se mi sento inerme all'azione sicuramente andrò a usare un granato grezzo ok quindi sappiamo che o l'una o l'altra tutte e due insieme no giusto oddio e mi sembra un po' azzardato cioè nel senso che rischiamo di essere poi troppo determinati in maniera quasi distruttiva e non va sempre bene ecco non andrei a sovraccaricarla io vedo Stefano che Michela chiede a forma di genesa è troppo complicata? allora a forma di genesa sarebbe molto interessante il problema è che uno stampo non c'è perché non ho mai visti per creare una un'organite di fatto la genesa è già un'organite no? soltanto che se la vogliamo fare con resina e pietra rimane un po' il problema dei pieni e dei vuoti invece come questa che avevo fatto avevo fatto una genesa con no scusate una pentasfera con dentro un quarzo rosa e poi l'avevo inglobata dentro uno stampo sferico di resina e quindi questo è il risultato se però ora andiamo un po' fuori dall'argomento ma se si volesse fare una soluzione del genere infilare una pietra dentro a una pentasfera potrebbe essere una situazione del genere quindi senza andare a complicarsi troppo la vita con con la resina e rendere poi una pietra non più intercambiabile sarebbe forse più preferibile questa soluzione che in questo caso basterebbe aprire uno dei cerchi e stare la pietra e lo potresti cambiare quindi direi di rimanere un po' più sul semplice per cominciare poi possiamo provarle tutte avevo visto un altro commento sempre uno user sì anch'io l'ho visto che chiedeva obelisco a forma di obelisco è sempre lei sempre Michela forma di obelisco interessante sì perché anche costruttivamente sì è possibile non ce l'ho già fatto ma lo posso costruire lo posso creare a forma di obelisco casualmente ma al caso non esiste ho questa torre di selenite che potrei usare come calco per fare per fare la forma per esempio o se no costruire una sagoma anche col dust o con altri materiali e usarlo come master come modello per poi costruirci lo stampo intorno e una volta con lo stampo cavo mettere dentro le pietre che verranno fuori e la combinazione di colori e metalli appropriati io credo Stefano però ti faccio anche io una domanda ok che ogni forma sicuramente emetterà un tipo di vibrazione differente no? sì direi proprio che sì quindi chiedo eh chiedo perché sono molto incuriosita e mi piace molto scoprire cose nuove a mio sentire per esempio una punta ok una piramide la vedo più come una spada che colpisce proprio dritto verso l'universo e rimanda giù queste vibrazioni giusto? sì dà l'idea di il vertice come di un emettitore no? esatto mentre probabilmente un obelisco simile a quello che tu hai fatto vedere quindi non il classico obelisco con la puntina e poi dritto ma quasi come avesse una scala porterà un'energia a spirale verso l'universo e la farà tornare a spirale giusto? quindi anche lì secondo me si potrebbe valutare che tipo di forza uno vuole utilizzare nello svilupparla no? sì perché per esempio quella quel discorso che facevi adesso vedi la torre di sirenette ha tutti questi gradoni che sembra una scala di pancia viene da dire che forse è meno diretto è una cosa più è un po' più morbida esatto è un po' più morbida e allora lì a quel punto secondo me bisogna vedere che tipo di vibrazione vogliamo ottenere sia attraverso i cristalli che attraverso la forma quindi abbiamo bisogno di una forza diretta impattante che ci dia proprio uno spintone abbiamo bisogno di qualcosa di delicato che ci prenda in braccio e piano piano delicatamente ci accompagni in realtà io credo che in questo momento abbiamo bisogno di una bella spinta universale a te l'hai subito per deciso? io secondo no 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 non è deciso dico il mio sentire ovviamente poi ascoltiamo anche cosa dicono sì no dicevo te vai proprio per il colpo che è quella senza via di mezzo sento proprio questa stagnazione questa forma un po' di paura del cambiamento e come proprio se qualcuno ti debba dare una spinta e farti accoggere che poi di là c'è una meraviglia perché ci si ritrova su questo salto non salto e torno due passi indietro quindi se si vuole lavorare un pochino più velocemente io una spintarella la gradirei ecco se dovessi scegliere posso rispondere un secondo un utente che mi chiede che cristallo usare per alleggerire la pesantezza del cuore io ora vorrei sottolineare con l'evidenziatore che questa è una è la diretta di Stefano però sai cos'è perché è un'occasione troppo ghiotta averti qua e non chiederti un consiglio su una pietra è normale quella e quindi chiedo il permesso di fare questa cosa ma solo così una tantum adesso chiedo il permesso Stefano prego avrei solo bisogno quanto meno del nome perché io non vedo i nomi io sto ancora cercando di quindi se magari siccome ho visto che l'ha già scritto più di una volta allora tu parla che io cerco quando ti faccio un segno l'ho trovato anche se puoi riscrivere un cristallo per alleggerire la pesantezza del cuore allora no facciamo una cosa visto che non è la mia diretta dove io vado a canalizzare diamo una risposta che possa andare bene a tante persone per alleggerire il cuore ok così accontentiamo tutti quelli che sono collegati con noi che hanno bisogno di alleggerire questa parte allora io sono una fan affiatatissima della rodocrosite perché è molto delicata ma allo stesso tempo abbastanza veloce quindi non è lenta come il quarzo rosa e è proprio come mangiare un muffin rosa con l'anima allora scusa perché è molto delicata e quindi io consiglierei quella come sostegno poi qualcuno mi dice ciao manu io saluto ma non so chi sia perché ripeto non vedo un nome sono arrivato aspetta che adesso arrivo ho trovato i commenti sì sono io l'ho chiesto io mi dicono sì però io non vedo un nome tanto saluto tutti quelli che ci siamo persi mentre cercavamo di trovare il bandolo della matassa a tutti in ritardo ciao manu te l'ha detto aspetta l'ho chiesto io donatella ferrara l'ho chiesto io parla di cosa ha chiesto ah ma allora per favore mi puoi dire che cristallo usare per alleggerire era donatella ferrara ecco ok donatella guarda consiglio anche a te una rodocrosite è meravigliosa è veramente un dolcetto che rasserena al cuore e poi guarda chiedete di cuore il nostro Stefano ha una super maglietta fucsia bellissima anche i banner sono fucsia non abbiamo sottolineato a sufficienza ciao Sofia è passata a trovarci la nostra Sofia allora io mi preparo un po' di azzurri e un po' di blu abbiamo detto la piramide ok io comincio a disegnare a sbozzettare allora io allora intanto che tu disegni magari prendo un attimino la parola cosa che non mi è di solito molto difficile anzi fermami Stefano perché sai che io una cosa te la chiedo però aspetta perché se no poi sono fermo il lapis lo vedi con una forma burattata o abbastanza selvaggia burattata burattata ok e per dare proprio questo per quanto riguardava il fattore vocale diciamo no il tirare fuori la voce e per quindi lo decidiamo di focalizzare sul tirare fuori la voce il punto di vista ok allora lo facciamo per quello ok perfetto ok quindi non una spinta fisica ok d'azione ma coraggio di parlare nella propria verità esatto giusto ok proprio quello che si sente vero dentro e la forma mi hai detto scusa burattata o grezza burattato burattato io disegno una cosa abbastanza rotondeggiante quindi poi quello che sarà sarà allora abbiamo un blu allora qui Stefano ci dicono la piramide ci piace voi due una combinazione perfetta Katia grazie Katia grazie Katia allora siamo un bel frullato insomma sì sì viene fuori una bella macedonia secondo me eh sì soprattutto perché Stefano ha cambiato in questo momento il cristallo da inserire quindi io ok adesso vado a ruota libera ah ecco è vero molto bene andiamo avanti bello della diretta bello della diretta se uno deve far vedere che è preparato deve far vedere che è preparato allora aspetta aspetta no hai ragione dobbiamo fare una premessa a questo punto perché sennò sembra è proprio brutta allora avevamo a monte di questo tentativo di fare la di fare un disegno fatto bene avevamo pensato che riguarda il coraggio la pietra più indicata fosse stata il granato il granato per quello che poi l'avevi tirato scusa ma io sono no 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 ma a me va bene a me piacciono queste cose sono emozionanti vai sereno io direi di lavorare sulla voce lavoriamo sulla voce è certo ok sei tu che canalizzi questa scusa se ti rimesso in difficoltà non era mia intenzione scherzi assolutamente allora quindi io Stefano spenderei qualche parola sul lapis intanto visto che l'abbiamo definita allora il lapis che io non ho qui a fianco me sai che forse sono uno io senza saperlo però non sono sicuro che non so se però è sudalite questa è un lapis lazio quello non è non mi sembra un lapis non mi sembra comunque magari dopo tra un attimo quando Stefano farà vedere l'immagine ne prendo uno perché appunto mi ero preparata il granato ma va bene no ma mi piace no mi piace questa cosa quindi il lapis che è di colore blu intenso e si dice anche sia il cristallo dei re e delle regine no perché sostiene proprio la parola la parola quale quella insindacabile indiscutibile quindi ci aiuta a trovare l'emozione ferma e sicura per trasmettere la nostra verità deve essere assoluta incontestabile e insindacabile e Michela dice il blu il mio colore di forza esatto sostiene tantissimo il chakra della gola che in realtà è anche il nostro filtro delle emozioni perché nel core si formano e nella gola si filtrano quindi in entrata ed in uscita in questo caso ci darà grande sostegno nella nostra parola ok non è molto delicato quindi tenderemo a dire le cose come stanno anche senza misure cioè scusate senza mezze misure il lapis spesso ha delle inclusioni di pirite quindi ha delle inclusioni color oro tiziana dice l'arcangelo Michele il blu con l'energia dell'arcangelo esatto sì ci sta io ho una penna dorata se l'ho rubata mia figlia spero che si veda perché mi ricordavo vedi 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 Stefano è troppo bravo lui lui non lo sa ma sa e quindi ci aiuterà a sostenere la nostra verità a toglierci il tremore dalle gambe quando dobbiamo parlare con qualcuno che noi pensiamo sia magari più di noi meglio di noi ci aiuterà a sostenere la parola quindi comunque è un buon primo passo per poter avanzare perché nel momento in cui io dichiaro la mia verità è già una forma di avanzamento è già una forma di coraggio perché alla fine effettivamente la scelta che ha fatto Stefano è molto bella perché il primo passo per il coraggio è ciò che si pensa davvero nel cuore a proposito di metalli guarda ho trovato ho raccolto nel tempo questo metallo che è proprio blu blu scuro lo vedi meglio come fondo visto che poi nella piramide è un fondo di metallo lo metto sempre questo sul blu o per staccare sull'oro l'ottone io userei l'oro perché ha un'ottima rifrangenza in questo caso il blu dell'apis è già molto intenso anche perché non in tutti i lapis ci sono le puntinature di pirite quindi non le si vedono quindi almeno io personalmente userei la vibrazione dell'oro con quelli ok quindi il lapis tornando al lapis ci porta anche a far fluire le nostre parole e non più implodere quindi non più vabbè lasciamo perdere tanto non mi ascoltano mai e magari poi a un certo punto uno esplode parla male ma a dire ogni volta quello che si pensa perché la verità la nostra verità è davvero il primo passo verso una grande apertura di avanzamento perché fino a quando non avremo il coraggio di riconoscere quello che noi pensiamo è difficile che poi riusciamo a entrare in azione io intanto leggo un commento che dice ciao ragazzi sono Monica Lolli solitamente seguo Manuela sono una preparatrice di Elisir di cristalli con formazione energetica tradizionale cinese se posso permettermi io vorrei ricordare che inizia il nuovo anno oggi col primo febbraio della tigra di acqua perciò sarebbe saggio sostenere l'elemento acqua della medicina cinese cioè reni sostegno al coraggio e la inga ok posso proporre l'aggiunta di un diaspro rosso interessante come come li vedi sono compatibili si picchiano tutti i cristalli sono compatibili benché si abbia un intento ben chiaro io per esempio non avrei messo il diaspro è un cristallo che io non avrei messo però magari se Monica ha voglia di spiegarci per quale motivo sceglierebbe una pietra abbastanza radicante insieme a un lapis io ricevo volentieri anche queste indicazioni giusto ste certo certo siamo qua per imparare se Monica l'ha proposto ha di certo un suo intento no esatto quindi non c'è niente di giusto niente di sbagliato a priori assolutamente bisogna però fare le associazioni consapevoli ecco non solo prese per la potenza che hanno sui libri ma proprio per come vibrano insieme i due cristalli per questo per esempio io ti ho detto sconsiglio a sto punto il granato con un lapis perché potremmo non è sbagliato attenzione però si picchiano un po' si pestano i piedi potrebbe essere troppo per esempio io associerei molto bene e questo ce l'ho con me un capello di venere perfetto sì quel bellissimo cristallo aspetta che ti metto in primo piano allora si fa così esattamente il contrario molto bene va bene va bene siamo belli così noi scusate il bello della diretta adesso anche regista non si può fare mai un errore allora questo è un cappel di venere o quarzo rutilato perché associerei questo innanzitutto per la sua rifrangenza di questi fili oro di rutilio che sono un collegamento potentissimo verso l'universo e quindi ci aiutano non solo a dire la nostra verità che è quella del lapis che è più una verità da oratore è più una verità passatemi il termine ma proprio con le pinze materiale no oggettiva ma ci aiuta proprio a fare in modo che non diventi una verità ecoica ma che rimanga collegata verso l'universo a una verità molto più importante e profonda che è quella della nostra anima per il nostro cammino e per il nostro avanzamento il capello di venere è un cristallo che con la sua trasparenza ci porta verso l'alto ma con questi capelli dorati adesso ve ne faccio vedere anche più di uno ci porta proprio proprio davvero come un'antenna che ci collega al divino più grande e quindi io farei questa associazione quindi sono la verità delle mie parole ma quelle più profonde quelle del cuore quelle dell'anima quelle che porteranno un cambiamento nella mia vita quelle che davvero sono nel mio percorso di vita non le parole quelle futili quelle materiali ma proprio che mi aiuti a ricreare una prima apertura dell'anima quindi universo filtro emozioni e anima che si collegano e vibrano all'interno di tutto il nostro corpo per poter evolvere in avanti verso la verità della nostra anima che a volte anzi spesso non è quella del nostro mentale no? e quindi secondo me questa associazione è proprio molto bella grazie Sofia dice che siamo un'unione meravigliosa Stefano grazie grazie Sofia ti faccio una domanda la vedi il capello di venere come pietra burattata verso il vertice o se esiste in chips da seminare sotto al lapis allora io mi hai chiesto o burattata o in chips sì scusate non ho capito la domanda perché stavo leggendo faccio vedere il disegno aspetta faccio vedere il disegno per se riesco aspetta devo fare così anzi ecco allora vedi ora lo giro avevo pensato di metterlo nel vertice qua una forma un po' burattata un po' irregolare ma tondeggiante e collegarlo al lapis con un magari un intreccio di fili di rame io non so spiegarti perché no io sono d'accordo assolutamente assolutamente io sono d'accordo appoggio il tuo progetto in chips eventualmente esiste per me no io non l'ho mai visto ok allora io pensavo quindi di fare un non so se ingabbiarlo completamente o fargli una specie di supporto a magari a tre tre fili che lo vada a sostenere tipo un treppiedi così qua intrecciato e questi tre fili qua rimangono intrecciati e poi vanno a bracciare il lapis come un po' a ingabbiarlo però sembra anche una corona sai visto da qui io voto buono mi piace quest'idea sì esatto poi qua quasi intreccia e si espande come le radici di un albero sì bellissima idea allora è arrivato il commento della nostra Michela mi sembra si chiamasse che ci spiega perché lei avrebbe scelto il diaspro rosso e dice l'energia vitale che sostiene parte dei reni il diaspro rosso è il più indicato io personalmente bevo sia diaspro che granato ah perché fai l'elizia l'aveva detto se non ricordo male conosco bene la differenza di risultato il diaspro fortifica i reni in cui c'è la sede del leone punto di ah no scusate in cui c'è la sede dello ing vitale i reni sostengono il cuore se volete il cuore di leone il granato a forza fisica è diverso grazie allora sì Monica hai ragione ma in realtà forse magari tu sei entrata dopo e abbiamo insieme deciso di non fare un un lavoro per la forza fisica ma bensì per lavorare sulla voce sul chakra della gola sulla verità e sul collegamento però ti ringraziamo per queste tue informazioni e Stefano le terrà presenti vero? certo per sviluppare magari qualcos'altro per non appesantirlo troppo perché poi io tante volte ho corso poi tante volte ho anche rifatte le organitiche che avevo in mente perché poi le ho sai quando vuoi mettere troppe cose certo certo come in teasto prima si parte un copione poi togli 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 e rimane l'indispensabile ed essenziale ora questo bozzetto è un po' così fatto velocemente perché comunque devo dare un occhio qua un occhio là non è proprio concentrazione perfetta come quella che ho quando sono da solo e lavoro concentrato su quelle basta stavo pensando questi fili di rame che vanno verso diciamo chiamiamolo il basamento di trucioli che metto qua alla base della piramide vanno a radicarsi come una appunto come le radici di un albero che abbracciano poi il lapis e vanno a sostenere come fosse uno scetto un altarino il cappello di venere ora come struttura diciamo energetica lo vedi completo o manca ancora qualcosa di contorno per renderlo equilibrato in realtà se usi questi due cristalli e li metti in quella maniera soprattutto con quella struttura che forma l'albero quindi poi sotto ci saranno delle radici che vanno a fare da trasmettitori di queste vibrazioni per me è sufficiente io non esagererei perché ci sono già delle grandi energie belle potenti quindi io secondo me così già è un'ottima vibrazione quindi magari dare un po' di colore leggero non esagerando come mi capita spesso fare magari giusto un richiamo al blu magari un po' più teme per essere più sempre gentile comunque la spallata sì però ti tengo anche per mano non ti abbandono al salto sì quindi un azzurro una nuvoletta ad azzurro che va ad abbracciarla no ad accompagnarlo più che abbracciarla perché poi rischiamo davvero che diventi troppo azzurra troppo blu sarebbe eccessivo la parte qua in alto io già che l'ho portata per farla vedere e non è stato un caso neanche quella questa è foglia d'oro metterei metterei dei piccoli elementi di foglia d'oro in questa zona qua dove non metteremo colore sono d'accordo spero che si veda metto sembrano brufoli però poi saranno pezzettini di foglia d'oro vabbè la giovinezza è la prima la prima la mutazione adolescenziale del nuovo e quindi mi sta piacendo un sacco a me questa mi sa che ti dovrai mettere in fila perché grazie penso che lavoro e mazzate lavoro e mazzate no dai ovviamente questa la la mettiamo a disposizione di chi è interessato per prima dai te la faccio dedicata a te con le comunicazioni precise questa poi una volta che sarà terminata la metterò le foto sul sul gruppo le inseriamo in un post cercherò di magari di coinvolgere quelli tutti quelli che hanno partecipato stasera durante la la live e vediamo se qualcuno è interessato poi ci sentiamo in privato sofia infatti anche lei la mia cara sofia moharan dice anche a me piace tantissimo ma non avevo dubbi non avevo proprio nessun dubbio quindi un'altra cosa un'altra idea interessante che mi avevi dato a te quando ci siamo visti ci siamo accordati per per questa live metteremo poi anche una sorta di carta di identità come mi avevi suggerito quindi la per esempio oltre agli elementi principali quindi i cristalli le pietre che userò e l'intento anche diciamo la data di nascita e la luna precisa al primo al primo momento in cui verserò la prima goccia di resino la prima forma la prima messa in forma dello stampo mi annoterò il giorno la data e l'ora scusa la fase la fase lunare il movimento il momento in cui che luna sarà ecco e in modo da dare anche un'indicazione più precisa sulla sua genesi unicità esatto proprio una carta d'identità e anche un numero non anche un nome un nome sarebbe interessante un nome esatto un codice dico un numero perché hanno sempre delle bellissime vibrazioni numeri e un nome ovviamente che Stefano canalizzerà e chi l'adotterà avrà la fortuna di averla con la carta d'identità che poi può sempre poi connettersi anche lei o lui il proprietario in un secondo momento e vedere se poi arriva un altro nome di battesimo eh certo perché poi comunque sarà orientata a entrare in empatia con il ricevente la nostra impronta iniziale è una spinta iniziale appunto poi chi deciderà di avvicinarsi a lei formerà questo legame questo supporto che l'accompagnerà e quindi è giusto che sia personale non troppo marcato diciamo caratterizzato da noi adesso bravissimo ma allora c'è un utente perché non vedo il nome che scrive bellissima ma a me non tocca allora probabilmente se io ho capito bene il commento quindi tipo che non non gli arriva non lo so non lo so sai chi è? mia moglie è mia moglie che mi dice che non le tocca nel senso che le piace tantissimo ma sa già che a lei non arriverà ah a me non tocca ah ok ok piacere Martina a me non tocca nel senso non arriva e se accadesse proprio perché probabilmente in quel momento l'utente che sta guardando non avrà bisogno di lavorare sul chakra della gola quindi ci sta che magari a qualcuno non arrivi ecco invece nel suo caso dice a me non tocca anche stavolta andrà da un'altra parte io non ce l'ho sempre che mi rimarca ogni volta quando faccio qualcosa per lei purtroppo vado un po' troppo mentalmente per seguire le sue indicazioni e non mi lascio guidare dalla pancia faccio sempre delle cose che poi effettivamente non tornano sono un po' zoppe invece tutte le cose che faccio per altri perché seguo l'ispirazione dicevo questo è bellissimo ma perché quando le fai a me invece non escono così allora per l'inesima volta se dovesse esprimerlo ti deve fare una roba talmente grande che non ci sta in casa quindi toglie e poi zoppica effettivamente sì sì cerco mentalmente di trovare la sintesi di tutto quello che le vorrei dire e allora poi niente inciampo troppa roba ma vediamo un attimo mi incuriosisce questa cosa perché tu hai specificato tre fili inizialmente tu hai detto tre fili che salgono ora io chiedo Sofia è ancora in diretta con noi che la facciamo interagire subito visto che io di numerologia non me ne intendo molto ma Sofia Moaran sì e quindi mi ha incuriosito il fatto che tu abbia proprio istintivamente detto allora Sofia è in linea con noi e noi Sofia ti sfruttiamo un attimino e ti chiediamo l'energia del numero tre perché Stefano ha detto questo tre con tanta convinzione e che ho detto questo non lo sta dicendo lui scusa perdona arriva dai piani alti e quindi adesso esatto e quindi adesso attendiamo che la nostra amata Sofia ci dia una piccola indicazione su questo tre che è arrivato così sopra il lapis ora mentalmente la mia parte mentale per giustificare dice ma no perché qua sei sulla punta hai detto tre però non hai detto due quattro ci hai detto tre adesso vediamo il commento di Sofia e vediamo perché questo tre deve sostenere il capello di Venere che va in collegamento con l'universo perché qui c'è tanta ciccia ragazzi è un messaggio ecco il tre è il verbo la trinità e il potere magico Stefano la Sofia ci dice il tre è il verbo quindi stiamo lavorando proprio sulla parola la trinità la trinità e il potere meglio di così si è incascati in piedi e dice ha una forte vibrazione quindi vedi che ci serviva approfondire grazie Sofia sei sempre grazie grazie vedi vedi quindi tre adesso uno ne puoi mettere quattro devo non mettere tre no no volentieri me lo devo segnare e poi oltretutto ogni volta che sento la parola trinità so che sono un barbaro che sono mi viene in mente Ben Spencer è certo ovvio lo chiamavano trinità quando ero giovane una volta trinità era lui la prima trinità che ho incrociato è stata lui e mi ricorda comunque la forza intanto vorrei farvi vedere anche un altro capello di venere che questo è leggermente fumé per farvi notare proprio la differenza che c'è tra un cristallo e l'altro quindi ognuno proprio poi ha la sua personale vibrazione si omiglia molto a quello che ho disegnato con la forma un po' così a pera bello è tutto con le striature sì questo ne ha tantissime di inclusioni di rutiglio sono proprio molto concentrate e poi c'è anche questo che invece è super trasparente ed ha delle filettature molto più sottili ma sono tantissimi ognuno è diverso dall'altro ora il problema della piramide lo sai qual è è proprio quella cosa che a te fa in bestialiera che le pietre sono completamente annegate e lo stampo essendo fatto in quel modo non ha modo di a parte l'unico modo sarebbe farlo uscire da sotto ma poi però poi come fai in posizione esatto ma riusciremo a trovare una soluzione anche a questo sono sicurissima perché sicuramente è una vibrazione ma poi troverai sicuramente il metodo per fare in modo adesso non sto dicendo in questa però per fare in modo che il cristallo rimanga quantomeno un pochino fuori per portare fuori questa vibrazione e non lasciarla solo all'interno sai cos'è si potrebbe fare modificare lo stampo e creare perché poi lo stampo vedi tutte le cose che ho portato non c'è quello immaginati un imbuto quadrato così con gli spigoli e si comincia sempre a costruire al contrario per forza perché per la gravità non hai alternative però se modificassi lo stampo e riempissi diciamo la parte sotto la cuspide con qualcosa in modo da creare un piano un tappo alla fine crei una piramide tronca esatto perché pensavo io la punta diventa in automatico la punta della piramide per forare fare un foro una profondità di due centimetri da creare un alloggiamento in cui tu puoi appoggiare il cristallo quindi diventa una piramide anche più versatile alla fine io stai dicendo le 19-19 Stefano è il tuo prossimo compito d'anima questo 19-19 sì che tra l'altro è il mio numero Michela chiede i fili saranno di che materiale mi è sfuggito è rutilio i fili del papel di venere è rutilio infatti ha detto anche quarzo rutilato o forse diceva i fili quelli che sorreggeranno forse sì hai ragione scusami rame giusto Stefano sì sì in quel caso è rame sì ok Tiziana dice Trinità è Perensil io a sto punto il nome direi che è Trinità caspita la chiamavano Trinità dai votiamo ragazzi in diretta subito votiamo votiamo perché il film è lo chiamavano Trinità esatto sì per me sì lo chiamavano Trinità io voto sì non posso scriverlo nei commenti voto sì la Sofia dice la voglio o qui arrivano sì perfetto sono d'accordo tutti con te Stefano vediamo tua moglie Marti lei non so se era grande fan di Bud Spencer non penso Tiziana la zia Rossi dice sì quindi nome azzeccato Trinità sì perfetto sì Flori ok bene bene direi che il nome l'abbiamo scelto la struttura ce l'abbiamo aspetta perché i riflessi mi frega c'è anche la candela accesa e non vorrei applicare l'incendio la mandiamo già direttamente nell'etere sì sì nome perfetto ci sta approvo sì niente neanche un no bene quindi ricapitolando avremo un lapis diciamo di presenza più importante più o meno nel centro della della piramide per aiutare la voce a venire fuori a dire la propria verità ok sì il cappello di venere collegato nella parte più alta per canalizzare le cose giuste da dire quindi la connessione con con la verità sì la nostra verità più profonda sì e con la verità dell'anima col collegamento universale no per fare in modo che le nostre parole non siano solo una verità materiale ok ma che sia una verità profonda una verità dell'anima anzi adesso ti faccio una dichiarazione finisci che poi faccio una dichiarazione aspetta concludendo la sua forma avevamo detto questi tre fili essenziali quindi importantissimi tre fili che collegano il cappello di venere e l'apis perché abbiamo detto la trinità e quindi la sua parte il nome ma proprio la sua funzione in questo modo è espressa in equilibrio in completezza in pienezza sì e poi il colore queste nuvolette di colore ora qua sono magari rese un po' male perché non so se si vedono no però prima si vedevano adesso no è la luce se la tieni più bassa si vede così si vede ecco queste subreggiature blu qui dalle parti non troppo ingombranti ma che mi aiutano a ribadire il concetto della della comunicazione quindi il coraggio di tirar fuori la voce e dire la propria verità e la parte metallica che serve a attirare quell'energia che non utilizziamo l'energia stagnante o comunque non utilizzata a centrarla all'interno della piramide in modo che il cristallo principe il cristallo chiamiamolo maestro ma non lo vogliamo confondere anche il principe va benissimo mi piace il cristallo re il cristallo re era il cristallo dei re delle regine insomma che trasforma questa materia questa energia questa benzina non sfruttata in spinta utile a espletare la funzione l'intento che abbiamo deciso di infondere con il reiki la lo infileremo bene dentro questa piramide in modo che sia una funzione infatti volevo farti una proposta aprire una parentesi visto che sei arrivato qui vorrei farti un dono Stefano visto che è la prima che crei insieme a me e quindi mi piacerebbe spedirti i cristalli che ti serviranno per mettere all'interno già attivati da me poi tu se vuoi col tuo reiki super attivi che come dono mio personale grazie grazie mille non me l'aspettavo grazie prego grazie mille e sono sono onorato non so cosa dire sono senza parole io sono onorata allora poi bisogna che scrivi qualcosa anche te nella sua carica identità questo punto certo volentieri volentieri e anzi ti dirò di più desidero anche mandare un cristallo a tua moglie perché sarà perfetto visto che lo faccio io almeno avrai una cosa fatta a modo ok questo penso che non avrà nulla da obiettare perché tra moglie e marito bisogna sempre stare attenti però in questo sono sicuro che avrà zero da controbattere e cosa dobbiamo ancora dire ma no allora io direi che sulle 19.25 e spenderei due parole e su secondo me a mio parere rispetto alle scelte che abbiamo fatto come andrà a vibrare nell'ambiente sulla persona quindi per quanto riguarda l'attivazione che io farò specifica sui cristalli il mio intento sarà di portare una verità leggera dell'anima quindi il lapis verrà verrà attivato per questo e attiverò un collegamento universale molto alto per fare in modo che le emozioni che prima ci risultavano distonanti e quindi non riuscivamo a recepire o demettere diventino qualcosa di dolce che si possa accogliere e trasformare attraverso la nostra voce sempre rispetto al nostro compito universale più alto trovo molto appropriato bello e se ti chiedessero poi te dove la metteresti così di pancia in casa perché poi sarà un oggetto non te lo puoi mettere in borsa cioè un po' ingombrante scherzo allora viene di metterlo allora io lo metterei in una zona comunque giorno in una zona molto frequentata non lo metterei per esempio in camera perché secondo me sarebbe troppo una vibrazione particolare che non va bene per il rilassamento e addirittura giornaliera man giorni vabbè tutti i giorni facciamo così prima di mi farei mi farei proprio dei veri e propri bagni di energia quindi io non so perché ma questa visione di vederla al centro tavolo io la vedrei comunque sì il suo giorno living il suo giorno esatto è vicino alla finestra cioè che prenda luce io lo consiglio sempre di fare dei bagni di sole ogni tanto per ricaricarla le piramidi che faccio e questa qua proprio perché sulla comunicazione quindi una zona vita viva della casa dove c'è scambio di idee di interazioni molto più rispetto alle altre si avvicinano a una fonte luminosa naturale quindi vicino alla finestra per prendere il consiglio naturale sconsiglio vicino una tv sì quello sempre ma proprio anche per la parola che viene assorbita quindi cioè oltre a l'energia stessa dell'elettro niente stasera non ce la posso fare comunque l'elettrosmog e il cactus energetico io la chiamo il cactus la televisione io la chiamo il cactus energetico se non è sui programmi giusti e quindi sì sicuramente lontana proprio anche per fare in modo che i cristalli non assorbano quel tipo di comunicazione ma lavorino con la nostra con la nostra comunicazione sono le 19 e 29 io direi che abbiamo detto tutto Stefano tu hai ancora qualcosa con la matita così cioè sarebbe proprio da fare una foto un pupo inventore un pupo inventore sì anche sì quindi salutiamo tutti quelli che hanno ci hanno dato fiducia che sono stati con noi questa sera un sostegno energetico no? come? anche un sostegno energetico ci hanno dato certo infatti grazie soprattutto per quello perché è sempre importante riconoscere il merito di chi ti segue perché ti danno energia andare avanti e quindi io vi terrò aggiornati sui progressi ma una volta che si parte in 4-5 giorni una volta che si è tutto il materiale la piramide nasce e quindi quando sarà pronta posterò le foto e e poi chi sentirà si sentirà a fine empatico con questa piramide mi scriverà in privato e vediamo e per cui ringrazio ancora tutti per l'ennesima volta grazie Emanuela della collaborazione che spero che vada avanti perché secondo me abbiamo un potenziale spesso da esprimere esagerato la prossima volta non mi preparo niente scusa è stato bellissimo in realtà non è così però è bello così no perché due si sentono organizzano e poi c'è la magia no esatto esatto e quella cosa che dicevi di non prepararsi niente che poi infatti ogni volta che ti prepari qualcosa va rotto è stato confermato io ho confermato la regola hai visto? voglio leggere un messaggio di Florian che dice Stefano oggi hai sentito una cosa bellissima un uomo diventa uomo quando le decisioni importanti non saranno prese dalla madre ma dalla moglie cosa hai fatto Florian? adesso è molto bello avanti tutta così veramente se non lo leggevi sto commento no in realtà era partito molto profondo quindi ho detto boh magari vuole mandare poi vabbè ci sta comunque io sono d'accordo tra l'altro no devo riconoscere che ha un'importanza notevole mia moglie per me nella mia vita in questo momento vabbè è tutto un altro discorso quindi salutiamo un grande uomo c'è sempre una grande donna sicuramente esatto nell'ombra che non appare ma mi sostiene quotidianamente il ruolo più importante sì quindi dopo questa parentesi domestica familiare risalutiamo tutti ringraziamo tutti e ci ci aggiorniamo e poi ci rivedremo tra un mese con Manuela se vorrà essere con me spero volentieri e quindi ancora un bacione a tutti vi saluto vi ringrazio e e a presto buona serata a tutti buon weekend ciao grazie